Lei pure è nuova, femminuccia, taglia medio piccola, buonissima Ciao! Che c'è? Ciao! Ciao! Guarda come sto d'isola! Che c'è? Un po' timidina? No, no! No, no, amore, no! Non ci vieni! Vieni, corri con papà! Spettete proprio il telefono! Eh! Non ho capito! Secondo me è il telefono! Si! Non bisogna avvicinarsi con qualcosa vicino! Si è spaventata! E' molto maurosa comunque per la posta! Cioè, no, guarda che rossa è rossa! No, è sima rossa! Dobbiamo dare un po' di rossa! Dattaci per l'alto un troppo! Proviamo! Lei non è perfino anche! Sì! Ma poi giù qua! Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? E tira in modo che il papà vuole farla poco! Vieni, va! Com'è? E' buono! No? Sì, piano piano! Lo sta conoscendo! Perché non lo vuoi? Perché non lo conosce! Sta cercando di capire che cos'è! Se si può mangiare! Che è diverso! E' morbido! E' morbido! Sì! Eh sì! Sì! Se lo sta gustando! Come che fa una raguna? No! Pure altri cani mangiano così! Perché non sono abituati a questa... Però l'ha mangiato! Si! Però il gusto poi le piace! Capito! E' combattuta tra la consistenza che è particolare! C'è una bellezza unica eh! C'ha degli occhioni meravigliosi! Un gruppo libero! Amore! Che c'ha vento! Scodinzola però! Un po' spaventata! Eh no! Non voglio toccare! Non voglio spaventare! Capite? Non mi ha paura della macchina! Non ti metti troppo vicino! Eh infatti mi sto mettendo da lontano! Visto! Prima com'è che ha iniziato a correre? Eh non lo so! Ahahahah! Come va a chiamarla? Chiara? Perché ti torna il gusto Dazzo che ti segue! Faglielo vedere da lontano Dazzo che ti segue o corre! Parigi! Guarda che ti do! Guarda che ti do! Guarda! Guarda! Vieni vieni! Eccola qua! Vieni! In piedi! Vieni vieni! No! Se cerca un ritaro! In piedi! Ce la fai? Vieni qua babbo! Guarda com'è sta bella in piedi! Vieni vieni! Eh ma non mi voglio far vedere capito? Vieni! Sì! Vieni! 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 Sta qua! Sta qua! Non c'è qua! Dove mi devo mettere il favore mio? E dove mi devo mettere il mio? All'ombra! Si vede la faccina di letto! Ok! Eccola! Sta prendendo coraggio! No! 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 Ce la fai a prenderla così? Sì! Sta prendendo confidenza! Sì! Sta molto delicata! La prende piano piano! La codina fa scendere piano piano! Piano piano sì! Vieni! Vieni! Se corri col Vustel ti stava seguendo! Se fai qualche passetto più! Guarda! Quanto potrà pesare? Un dieci chili? Un dieci chili? Sì! È molto... Dieci! Dice che ci arrivi a dieci chili! Non lo so! Guarda! Dite di no! Sì! Una decina di chili secondo me! Perché guarda com'è slanciata! Sembra più grande dell'altra ma in realtà è soltanto slanciata! Guarda che gambellino! No! Sta qua! Guarda! 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 È andata... È andata alla fonte! Guarda! 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 Sono tutti chiari adesso! Vieni! Vieni! Ma ce li avevi tu! Guarda! Sta esplorando! I cucciolotti hanno preso! Guarda! 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 Vieni! Vieni! Vai più vicino! Fai vedere che... Guarda! 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 si è buono se lo porta di là no perchè si protegge capito? chi c'è? mangia mangia è bella è la parte si bisogna sedersi se come prendersi la pistola si devi mettere là Chiara e ti dà la seduta poi quando ha finito di mangiare le mettiamo il fiocchetto chi c'è? chi c'è? mangia mangia attenzione quando arriva se ti sbatte nell'obiettivo che c'è? non ce l'ho più ciao pure lei ha i denti più puliti si ce li hai puliti i denti tu guarda che belle zampe le unge tagliate guarda come sei bella è una principessina tu un bel faccino eh mi sa poi in primo piano si vede le due si che bella qua 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 sta qua Ma c'ho qualcosa, un occhietto?